Prosegue l'ascesa del Francavilla che espugna il Macrelli di San Mauro Pascoli e gancia al terzo posto San Giustese Notaresco. Una prova di maturità per la squadra di Paolo Rachini che gestisce la partita con autorità e segna un gol per tempo lasciando senza scampo la San Maurese. Ancora senza diverse pedine tra cui Bedin, Palumbo e Caffiero, Rachini reinserisce tra i titolari Spacca, Baregas, Bellanca e Gallo, tra i romagnoli Luati al posto di Santoni e l'unica novità rispetto all'undici che ha superato l'Avezzano in settimana. Francavilla sin da subito in controllo e il primo squillo arriva al minuto 20 con Banegas che chiama in causa l'estremo di casa Baldassarri. Passano due minuti ed il Villa trova il gol del vantaggio. Ancora Banegas ad ispirare da calcio piazzato per l'incornata vincente del sindaco giallorosso Matteo Milizia che infila il gol dello 0-1 con una delle specialità del possente centrocampista. Ancora Francavilla intorno alla mezz'ora con il fendente di Andrea Mancini che sfiora l'incrocio dei pali. La San Maurese prova a giocare ma sbaglia tanto in fase di impostazione. Stesso cliché nella seconda parte di gara. Il tecnico di casa Mastro Nicola prova a cambiare qualcosa utilizzando la panchina ma senza alcun giovamento. Così dopo il quarto d'ora Mancini mette al centro per Dos Santos, girata che finisce tra le braccia di Baldassarri. Girandola di sostituzioni nell'ultima parte di gara e la Francavilla non soffre, anzi chiude la partita poco prima del novantesimo. Dos Santos conferma l'ottimo momento, sfrutta l'errore di Maioli e va a realizzare la rete che fa calare il Sibario sul match. Sette punti nelle ultime tre gare. Il Francavilla vola e domenica gran derby al Valle Anzucca contro l'Avezzano. Un Francavilla che nelle due occasioni più nitide ha concretizzato e ha portato a casa meritatamente la vittoria. Sì, abbiamo rischiato niente in fase di non possesso e siamo stati veramente bravi, compatti. Concediamo poco alla San Maurese che è una squadra che in casa ha fatto tantissimi punti, ha fatto risultati importanti. Quindi non era facile venire qua e fare questo risultato qua. Però, ripeto, la mia squadra si vedeva che era in palla, ha fatto gol e poi nel momento, diciamo, all'inizio del secondo tempo un pochettino abbiamo sofferto. Ci poteva stare, siamo stati bravi lì a soffrire e poi a raddoppiare il momento giusto. La crescita vera di questo Francavilla, per chi segue la partita, è che oggi in particolar modo non si è mai avuto la sensazione che potesse subire gol. Ma la crescita vera è che anche nei momenti di difficoltà adesso il Francavilla si sa gestire. Sì, questo è vero. Ma la cosa che mi è piaciuta oggi, come hai detto tu, è che non davo mai l'impressione di poter prendere gol. Quindi vuol dire che eravamo messi bene in campo, che eravamo corti e ci si aiutava. E poi, ripeto, questa è una squadra che in un momento di difficoltà, nonostante le assenze, ha fatto sempre veramente delle partite importanti e sta continuando a farlo. Quindi sono molto contento. Per chiudere, che effetto ti fa vederti lì in alto con il Francavilla? Perché il Francavilla è al terzo posto, sopra ci sono due che vanno ad un'altra velocità. Io sono contento per i ragazzi perché li vedo lavorare, danno l'anima e poi questi sono i risultati. Ovviamente io la classifica non l'ho mai guardata, ma non la guardavo neanche quando ero fuori dai playoff. Quindi mi fa piacere che siamo dentro e sono convinto che continuando a fare queste prestazioni ci rimarremo.